Buonasera a tutti signori, è finita adesso la partita Italia-Spagna, l'Italia dopo 37 partite è caduta e ha perso l'imbattibilità, dunque in finale domenica sera a Milano ci sarà la Spagna, l'Italia giocherà domenica pomeriggio la finale per il terzo o quarto posto, allora da dove partiamo? Faccio un mist fra considerazione e pagelle, partita in sé, la Spagna ha meritato, li facciamo i complimenti, bravi, hanno vinto perché hanno giocato meglio di noi, hanno giocato meglio di noi anche perché noi ci siamo presentati con 4-5 giocatori impresentabili in questo momento, io ripeto non sono uno che è contro Mancini dunque perché a me Mancini piace dunque questo ci tendo a premetterlo, però Mancio sta iniziando a rompere un po' il cazzo, sta iniziando a rompere il cazzo per il ciò che c'è fatto, la riconoscenza nello sport non esiste, è ora di farla finita, di fare giocare giocatori per riconoscenza, noi italiani ci siamo già caduti, con Berzot che nel 86 si è portato dietro quelli del 82, con Lippi che si è portato dietro quelli del 2006 e tutte queste pugnette qui, hai vinto gli europei con quel gruppo lì, bravi, è stata bellissima ma adesso devono giocare che è più in forma, Di Lorenzo è un grosso 2 la vendetta, Grosso e Di Lorenzo hanno avuto un mese di culo dove uno ha vinto un mondiale l'altro ha vinto un europeo, ma Di Lorenzo è una pippa, è una pippa porca troia, deve giocare Calabria, Calabria gioca meglio di Di Lorenzo, Calabria sta giocando meglio di Di Lorenzo, Di Lorenzo non ha capito niente tutta la partita, la Spagna ha capito che a destra avevamo un punto debole e ha continuato a giocare su quella fascia lì, si è fatto girare quattro volte dietro, quattro volte dietro non si fa girare neanche rincoglionito il mio vicino di casa, porca troia, mangio ai rotti coglioni, Verratti è impresentabile, Verratti non può giocare in questa nazionale, abbiamo Pellegrini e Locatelli che corrono le 6 volte di Verratti, Verratti l'ha da stare in panchina, Verratti deve stare in panchina, ok? Cioè, basta, noi andiamo con i debiti di riconoscenza, di riconoscenza di che cosa? Perde la palla, protesta, non corre dietro agli avversari, ha rotti i coglioni sto qui, a parte che per me è uno che è stato sopravvalutato dalla stampa, perché Verratti per me è un giocatore mediocre, mediocre, mediocre poi, poi cosa dire ragazzi? cioè, non si può far giocare due giocatori del genere, cioè poi Bernardeschi titolare, Bernardeschi titolare falso 9 ragazzi Mancio, non è che adesso sei diventato Udini, che trasformi tutto in oro, eh? cioè, dai, trattieniti un attimo, non pensare di essere diventato quello che, che, tac, e diventa tutto no? Io prete cioè, non si può, non si può, non si può poi dopo ci sono gli errori in generale, perché nel primo gol, Bastoni si è perso la marcatura però Bastoni ci sia la fatta, una bella partita anche quella, siamo imprescindibili da Chiellini, Chiellini deve giocare titolare poi vicino ci puoi mettere Bonucci, Bastoni, ci puoi mettere chi cacchio vuoi, ma l'ha dimostrato nel secondo tempo Chiellini deve giocare titolare nella nazionale italiana il problema è che ha 36 anni, perché gli altri sono tutti più scarsi di Chiellini quindi si è criticato, tutto quello che volete, ma Chiellini è una spanna una spanna, soprattutto gli altri, una spanna soprattutto gli altri difensori italiani, gli acerbi, i Bastoni, i Bonucci i Romagnoli, tutta quella gentaglia lì, ci sta sotto e gli lecca le... ecco, a Chiellini, gli le, cosa gli lecca insigna una pippa di livello mondiale noi nella Juve con Betancur e Rabiot abbiamo scemo e più scemo in nazionale abbiamo pippa e pippone che sono insigne e immobile dammi cazzo si fa a smangiarsi quei gol lì ma come si fa, poi tutte le volte allarga le braccia scorsa la testa, guarda per terra ma va a fare dei bocchini, va là vai a fare vai a fare, va la pippa di un altro... un messaggio per Aurelio De Laurenti non dagli i soldi che ti chiede liberatene finché puoi è una pippa è una pippa falla andare a giocare da un'altra parte guarda mamma mia com'è lo sport incredibile vincono proprio tutti niente, per il resto cosa volete dire? cioè, ragazzi gli parti praticamente in otto con lupo e lupo sì, ci stanno nel contesto ci stanno purtroppo gli errori giocare contro la Spagna che è una gran nazionale Giorginio non è in forma Giorginio e Barella non sono in forma ma cosa non ci mettiamo a criticare Giorginio e Barella li vorrei tutti e due nella Juventus io perché per me sono fortissimi poi non hanno fatto una partita straordinaria però, cioè, quello ci può stare Chiesa ha fatto un primo tempo un po' raffazzone anche se l'unica occasione che mi hanno creato è stata con lui a parte il palo di Chiesa e il palo di Bernardeschi scusate, quel tiro che se c'era mio nonno che ha 90 anni appena compiuti faceva gol al posto di insegna però ce l'ho chiesa nel secondo tempo era l'unico che andava a pressare là non lo so, quelli che gli errori ci possono stare Bonucci ha fatto una cagata di livello mondiale una gomitata per me è giusta l'espulsione cioè per Amarico c'è la sua prima che è andata a prendere una munizione per proteste che non aveva un senso logico comunque Bonucci sapete già quello che penso di lui non mi voglio ecco quello che ti volevo dire mancia quello basta con la gratitudine basta in nazionale deve giocare chi è più in forma Calabria adesso sta meglio che Di Lorenzo gioca Calabria è Calabria il terzino destro della nazionale adesso perché è il giocatore più in forma fra un mese guardi chi è più in forma in quei ruoli dove non hai dei giocatori predefiniti come in mezzo della difesa gioca Chiellini poi metta vicino metteci chi cazzo ti pare a sinistra abbiamo solo Emerson Palmieri perché a quell'altro sta poco bene e a metà campo adesso c'è i due giocatori che sono sopra sopra gli altri che sono Locatelli e Pellegrini e Zaniolo che però purtroppo era rotto non lo potevi convocare però è quelli devono giocare quelli che sono in forma non quelli perché mi hanno fatto vincere ma che cazzo me ne frega io la penso così comunque passiamo i voti Donna Roma 6 c'è perché all'inizio forse per i fischi tutto ma ha fatto qualche 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 canocchia e un po' insicuro ha sbagliato scusate ma c'è un rosghino in gola ha sbagliato qualche passaggio però alla fine ha fatto due belli interventi che ha salvato il risultato dunque gli do 6 a Gigio di Lorenzo 3 Lorenzo 3 è un disastro su tutta la linea ragazzi anche l'ultimo intervento all'ottantasettesimo che si butta in scivolata o Erzabal sembrava una scena di Oli e Benji o Erzabal ha fermato il pallone l'ha guardato andare in scivolata lui non sa lasciate stare per me era un bocchino ha avuto un mese di culo però di Lorenzo stasera 3 è impresentabile Bonucci 3 per l'espulsione una con la sua esperienza non può aveva salvato il gol del 2 a 0 dopo la papera di Gigio stava anche giocando bene ma a me questi gesti qui non piacciono poi non mi venite a dire che era un gesto naturale no lui l'ha guardato l'ha puntato gli era data la gomitata io guardo sarei anche quasi per il rosso diretto però ci sta e Bonucci 3 perché capitano della nazionale non puoi fare queste porcate qui bastoni io bastoni gli do 6 ragazzi si ha sbagliato sul primo gol è vero però ho fatto tanti anticipi a me non mi è dispiaciuto bastoni però si si ha perso il primo gol effettivamente è pesante però gli do un 6 di stima perché non si è perso ed era facile perdersi stasera soprattutto dopo come si era creata la situazione Emerson Palmieri 6 e mezzo l'unico che ha spinto come un assassino propositivo ma bene in fase di copertura secondo tempo è nato più in difficoltà perché ne aveva sempre due sulla sua fascia però ha giocato bene Emerson dunque 6 e mezzo Giorginio 5 anche abbastanza cattivo ha fatto dei falli non da Giorginio però ha giocato male non è in forma infatti anche nel Chelsea l'ultima prestazione è partito molte volte dalla panchina però non ci può prescindere l'avrei fatto giocare anch'io forse l'avrei sostituito prima ma diciamo che 2 a 0 inizio secondo tempo c'era anche questa considerazione qui però vabbè dai 5 Barella 5 e mezzo no 5 scusa 5 Barella perché comunque anche una cosa da dire Barella oggi doveva marcare Busquet non l'ha visto ai 10 anni in meno non vedi Busquet che corre quasi come me che sono 135 kg secondo me due considerazioni Nicolò te li devi fare anche lì secondo me il cambio bisognava farlo prima però ripeto fare i cambi sul 2 a 0 in 10 contro 11 non è facile questa è l'unica scusante che do al mister però Nicolò male anche lui stasera però è il centrocampista più forte secondo me che abbiamo in Italia dunque diciamo che una prestazione giù ci può stare Verratti 3 insieme agli altri 2 impresentabile non corre neanche gioca perché sembra che sia costretto una roba che non si può guardare dunque per me 3 poi avevamo davanti avevamo a Pippa in signe 4 perché si è mangiato due gol che uno poi gridava vendetta ha sbagliato tutti i passaggi che poteva sbagliare diretti in avanti quelli quelli che azzeccava erano quelli all'indietro quelli laterali 4 ho già sprecato troppe parole non è neanche voi Chiesa 6 Chiesa 6 uno per il gol perché ha dato l'assisto a Pellegrini ma diciamo che ha rubato palla si è involato l'unico che strappa poi là davanti non mi sento i dagli 6 e mezzo perché dopo si è fatto prendere dal nervoso ha fatto qualche fallo di troppo e poi ha perso anche qualche pallone stupido deve rimanere calmo adesso i giornali lo stanno pompando però deve rimanere umile deve rimanere calmo non deve perdere la testa bernardeschi 4 e mezzo bernardeschi non ha spostato al centro a sinistra a destra non era la sua partita secondo me e poi ci sono tanti altri discorsi comunque 4 e mezzo i cambi i locatelli i pellegrini 6 e mezzo tutti e due perché comunque ci ha messo corsa di dinamismo hanno provato avevano più gamba degli altri a metà campo stati in panchina questo è un ramarico secondo me grande in questa parenta qui dove la Spagna aveva tante essenze questo adesso dopo lo ricorderemo dunque 6 e tutti e due Moise che è in 5 e mezzo però non era facile farla appunto in mezzo i palleggiatori della Spagna però qualche palla gli è arrivata ha sbagliato ancora qualche appoggio qualche stop però dai 5 e mezzo poi dopo Calabria Calabria 6-6 anche 6 e mezzo ha giocato ha giocato bene ha spinto ha corsa dunque poi ne ha Mancini Mancini oggi voto 4 Mancio Mancio 4 ha presentato una squadra che non si poteva presentare non ha cambiato quando c'era da cambiare oggi tanti errori mancio è vero che dopo si crea queste amicizie e tutto questo gruppo però la gratitudine è un concetto che deve andare a puttare anche perché la Spagna ricordiamoci che oggi mancavano giocatori importanti come Olmo Morata Gerard Moreno Jordi Alba Sergi Roberto che non stava bene ha messo il suo a tre minuti dalla fine per tenere la palla e poi non ha convocato Fabian Ruiz Ibrahim Diaz dunque diciamo che ne mancavano e con gli altri con la Spagna ci hanno anche preso per il culo poi diciamo che tutto il resto va tenuto in considerazione adesso abbiamo la partita di domenica dove farà giocare i rincalzi secondo me come giusto che sia e poi dopo abbiamo le qualificazioni dove speriamo di andare a questo marinadetto mondiale e poi di ripartire non è non demoralizziamoci perché siamo sempre noi i campioni d'Europa siamo siamo primi nel girone e spero che con la Spagna ci sta però cambiamo registro Roberto lasciamo stare quello che è stato inizia a pensare con la testa perché c'è gente che sta meglio ok ragazzi ciao a tutti e ci vediamo domani è stato un piacere buonanotte